Ima Barbie Girl Valeria Lucchianova ha rimodellato il suo corpo come quello di una bambola. Sono tutta naturale a parte le tette, dice. Ma ha anche detto di essere respiratoriana e di poter vivere di aria e luce senza mangiare né bere video. La Barbie Girl Valeria Lucchianova è tornata sulla scena dopo sei mesi, mostrando il suo nuovo look da bambola sexy in un servizio fotografico dedicato alla primavera. La 29enne modella ucraina si è fatta fotografare con un corpo più muscoloso e nuovi vestiti, sempre più striminziti e provocanti. Verso la fine dell'anno scorso, Valeria aveva annunciato di essere stanca della sua magrezza, manifestando l'intenzione di andare in palestra per rafforzare i muscoli ed assomigliare ad un Amazone. La modella, che dice di essere tutta naturale eccetto che per le tette, sembra essersi ripresa dopo la brutta avventura dello scorso novembre. Quando due uomini mascherati l'hanno aggredita sotto casa la sera di Halloween, prendendola a pugni e cercando di strangolarla. Dopo il blitz, Valeria sarebbe stata ricoverata in ospedale a causa delle brutte ferite riportate al viso. Ma c'è chi dice che la storia è tutta una copertura, e che in realtà Valeria si sarebbe sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica, smentito dalla modella. Non mi piace più il mio corpo, ho bisogno di più muscoli, aveva detto l'anno scorso la donna, sposata con l'uomo d'affari ucraino Dmitry Shkrabov. Dopo mesi di palestra, tutto rigorosamente documentato su Instagram, sembra che la Barbie abbia raggiunto il suo scopo, mostrando addominali scolpiti che hanno mandato in delirio milioni di fan. Ha giocato troppo con le bambole quando era bambina, ha detto una 42enne col dente arvelenato. Valeria ha passato tutta la vita cercando di assomigliare il più possibile alla bambola americana, smettendo di bere e fumare per seguire la dieta, fatta di piccoli pezzi di pesce crudo, succo di frutta e acqua. L'anno scorso la modella ha presentato il suo stile di vita respiratorio, secondo cui il cibo, ma forse anche l'acqua, non sono necessari per vivere. I respiratoriani, ha affermato, possono vivere grazie al microcibo cosmico. Nelle ultime settimane non ho avuto fame per niente, ha detto Valeria, spero che questo sia l'ultimo passo prima di iniziare a vivere solamente di aria luce. . .